Al vaglio della scienza La sindone è un lino di colore giallino che misura circa 442 cm x 113 e recca impresso un'immagine frontale e dorsale di un uomo che è stato flagellato, coronato di spine, crocifisso e trafitto da un'arancia al costato, dopo la morte, come descritto nei Vangeli. Da quando la sindone è stata fotografata per la prima volta da secondo Pia nel 1898, molti scienziati hanno cominciato a interessarsi di questo particolare lenzuolo che la Chiesa Cattolica venera come telo funerario di Gesù. Il negativo fotografico del Pia aveva rivelato il positivo dell'immagine umana impressa sulla stoffa e questo permise ai medici legali di condurre una sorta di autopsia virtuale del cadavere non più presente nel telo. Nel 1978 una cinquantina di scienziati e ricercatori di diverse nazioni, prevalentemente statunitensi, appartenenti allo STURP, progetto di ricerca sulla sindone di Torino, hanno condotto un'investigazione scientifica multidisciplinare sulla reliquia, cosa che non era mai accaduta in passato. Essi fecero prelievi, misure e analisi sulla sindone per 120 ore consecutive. I risultati di tale ricerca fornirono ampie conferme dell'autenticità della sindone e costituirono ancora oggi una solida base scientifica. Il nascondimento dei primi secoli I Vangeli sinottici parlano di una sindone mentre Giovanni usa il termine otonia. Teli è menzionata anche in un sudario che viene ritrovato a parte nel sepolcro. Ma non solo i Vangeli canonici, ma anche molti apocrifi descrivono il corredo funerario di Gesù. I primi secoli della sindone sono stati di nascondimento per il pericolo che la preziosa reliqua potesse essere distrutta durante le persecuzioni contro i cristiani o le lotte contro le immagini. È altamente probabile che nei primi secoli sia stata piegata in modo da mostrare solo il volto e sia stata occultata a Edessa, nel sud-est dell'attuale Turchia. Per questo periodo, un notevole aiuto viene non solo dai documenti scritti, ma anche dallo studio della somiglianza tra il volto sindonico e la maggior parte delle raffigurazioni di Cristo, conosciute nell'arte, sia orientale che occidentale, come Mandiglion, Veronica o Volte Sanato. Tale somiglianza è evidente e non può essere attribuita a un puro caso. Deve essere il risultato di una dipendenza mediata o immediata di un'immagine dall'altra e di tutte da una fonte comune, che verosimilmente deve essere la sindone. L'intinerario verso l'Europa Il Mandiglion, che in ogni probabilità era la sindone ripiegata, viene portato a Costantinopoli nel 944 e qui il telo deve essere stato riaperto mostrando l'intero corpo. C'è la notizia dell'esistenza della sindone a Costantinopoli nel 1204, quando la vide il crociato francese Robert de Clary, durante il saccheggio della quarta crociata. È molto probabile che in quell'occasione sia stata portata in Francia da un altro crociato, Auton de la Roche, un antenato di Jean de Vergier. Questa nobile donna era la moglie del primo possessore ufficiale della sindone, Alirey, Geoffrey de Charny, a metà del XIV secolo. Nel 1453 la nobile donna Marguerite de Charny, discendente da Geoffrey de Charny, non avendo eredi, affidò la reliquia al duca Ludovico di Savoia e a sua moglie, Anna di Lusignano, che la conservarono a Chambery. Nel 1578 il venerato lino fu trasferito a Torino. Durante la Seconda Guerra Mondiale la sindone fu nascosta nella bazia di Montevergine, ad Avellino, il 25 settembre, dal 25 settembre 1939 al 28 ottobre del 46. Nella notte tra l'11 e il 12 aprile del 97 un incendio minacciò la sindone, ma i vigili del fuoco riuscirono a portare in salvo la reliquia. Negli ultimi anni si sono succedute alcune solenni ostensioni. Quella del 2015 abbraccia un lungo periodo, dal 19 di aprile al 24 di giugno. Un lino pregiato. I figli usati per realizzare la sindone sono filati a mano. Infatti presentano un diametro variabile, la tessitura è a spina di pesce, una lavorazione già nota nell'area medio orientale, ai tempi di Gesù. Come tessuto la sindone può risalire benissimo al I secolo d.C., dato che in antiche tombe egizie si trovano raffigurati telai idonei a produrre tale tipo di stoffa. Nella necropoli di Antinoe sono stati trovati tessuti analoghi a quelli della sindone. È documentata sia la presenza della struttura del tessuto spinato 3-1 attraverso il ritrovamento di tali tessuti a crocodilo nell'Egitto, risalente al periodo 100-120 d.C., sia la speciale tipologia della struttura della cimosa per il periodo intorno alla nascita del Cristo, nei ritrovamenti di tessuti a Masada, in Israele. La cucitura longitudinale, che unisce una striscia laterale al telo sindonico, non è usuale. Anche per questa particolare cucitura si trovano confronti con frammenti di tessuto dai citati ritrovamenti di Masada. Il test del carbonio 14 Il 21 aprile dell'88 dalla sindone fu prelevato un campione di tessuto per sottoporlo alla datazione con il mezzo del radiocarbonio In base a questa analisi, la sindone risalirebbe al Medioevo, a un periodo compreso tra il 1260 e il 1390 d.C. Numerose obiezioni sono state mosse da vari scienziati che ritengono insoddisfacenti le modalità dell'operazione di prelievo e l'attendibilità del metodo per tessuti che hanno subito vicissitudini come quelli della sindone. È stata inoltre dimostrata la disomogeneità dei tre campioni, Secondo il test statico di Pearson esistono 957 probabilità su mille che l'adattazione radiocarbonica ottenuta non sia quella dell'intero lenzuolo. Interessanti analisi sono state condotte dal chimico Raymond Rogers di Los Alamos Nation Laboratory il quale ha riscontrato incrostazioni di coloranti e fibrille di cotone nel lino proveniente dalla zona del prelievo per l'analisi radiocarbonica. Il chimico statunitense conclude che il campione usato per la radiodatazione non era rappresentativo del tessuto sindonico originale per l'esistenza di un rammendo. Per verificare l'antichità di un tessuto esistono però altri metodi. L'ingegner Giulio Fanti professore associato di misure meccaniche e termiche presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padua ha sottoposto alcune fibre della reliquia a due datazioni chimiche basate sulla spettroscopia vibrazionale e a una datazione meccanica multiparametrica. Tutte e tre le datazioni risultano compatibili con la data del primo secolo d'Apocristo. I pollini e altre micotracce Negli anni 70 il criminologo Max Frey scoprì nella sindone l'esistenza di granuli di polline provenienti da piante desertiche che fioriscono in epoche diverse in Palestina altri di piante della Turchia dell'Est altri dei dintorni di Costantinopoli altri ancora di specie esistenti in Francia e in Italia. Ciò confermò le verosibili tappe storiche della reliquia. Le specie identificate da Frey sulla sindone sono 58 di queste 38 a Gerusalemme nascono ma non esistono in Europa e tra esse 17 sono tipiche e frequenti a Gerusalemme d'intorni. Ciò prova la provenienza palestinese di questo lenzuolo e da sottolineare l'importanza della presenza sulla sindone dello Zygophilum domusum che cresce solo da Gerusalemme verso sud in Ausraele in una parte della Giordania e al Sinai. Le analisi di Frey sono state successivamente confermate da altri botanici. La palinologa Marzia Boi analizzando la lista dei pollini trovati sulla sindone da Frey osservando le fotografie da lui pubblicate ha notato la presenza delle piante più usate per realizzare costosi balsami che venivano impiegati negli antichi ritti funerari del Medio Oriente. Baima Bollone ha identificato sulla sindone alcune particelle di aloe e mirra soprattutto nelle zone macchiate di sangue. Sono stati anche rinvenuti frammenti di terriccio in corrispondenza della punta del naso e del ginocchio sinistro. In altri campioni di materiale terroso prelevati dalla sindone in corrispondenza dei piedi è stata individuata aragonite con alcune tracce di impurezze. Campioni prelevati nelle grotti di Gerusalemme sono risultati essere molto simili dato che contenevano anch'essi aragonite con le stesse impurezze. Le caratteristiche dell'immagine L'immagine dell'uomo della sindone non è dovuta a sostanze applicate sul tessuto ma all'ingiallimento delle fibrille superficiali della stoffa stessa il cui numero per unità di aree è determinata la maggiore o minore intensità della figura. La colorazione giallina è il risultato di una disidratazione e ossidazione che penetra solo per il 0,2 millesimi di millimetro. Queste osservazioni sperimentali escludono la possibilità che l'immagine possa essere stata prodotta con pigmenti, con metodi chimici o con riscaldamento del tessuto perché in questi casi la colorazione si sarebbe diffusa in profondità nella stoffa. E' stato trovato solo un cristallino di cinabro che è da considerarsi un reperto accidentale. L'esame di tutta la sindone con la flore in scienza ai raggi X non ha rilevato alcun pigmento di pittura, quindi nemmeno cinabro. Questa sostanza non può essere responsabile della colorazione delle macchie rosse, peraltro certamente composte da sangue, semplicemente perché non è presente. Bisogna considerare che molti artisti hanno copiato dal vero la sindone e quindi la presenza occasionale di pigmenti non è inaspettata, anche perché quasi sempre le copie venivano messe a contatto con l'originale per rendere più venerabili. Gli esperimenti con il laser La figura umana visibile sulla sindone è una proiezione verticale del cadavere su un piano orizzontale, c'è una corrispondenza in verticale fra il corpo e i punti corrispondenti dell'immagine. Esiste una correlazione fra l'intensità della figura e la distanza telo-corpo che permette l'elaborazione tridimensionale dell'immagine. Il telo ha avvolto un vero cadavere, le macchie di sangue sono dovute al contatto diretto con le ferite di un corpo umano. Sotto le macchie di sangue non esiste immagine del corpo, il fenomeno che ha impresso la figura umana sulla sindone è avvenuto dopo che il sangue si era decalcato sul tessuto stesso e ne aveva attraversato lo spessore. Nel corso degli ultimi decenni si sono tentate molte strade per spiegare come si sia formata l'immagine sindonica, in modo particolare le caratteristiche chimiche, la superficialità e la sua assenza sotto le macchie di sangue hanno privilegiato l'ipotesi di una esplosione di luce che potesse essere alla sua origine. Molte prove sperimentali sono state fatte a questo scopo, ma solo ultimamente l'utilizzo di laser ai cimeri potenti e con impulsi di breve durata hanno dato risultati interessanti. Infatti con il laser dei cimeri che emettono nell'ultravioletto si è ottenuta una colorazione giallina e superficiale. I risultati sono ottenuti e sono compatibili con l'immagine sindonica e le sue caratteristiche. Le analisi del sangue All'inizio degli anni Ottanta due scienziati statunitensi John Heller e Alan Adler e un italiano Pierluigi Baima Bollone, direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Torino, giunsero indipendentemente tra loro a dimostrare la presenza di sangue sulla sindone. È interessante notare che le fibrille di alcune zone adiacenti alle macchie di sangue sono rivestite di una sostanza proteica giallo-oro che risulta essere siero. Ciò è stato confermato anche dalle fotografie l'ultravioletto che mostrano la luna di siero attorno alle tracce del sangue coagulato nel quale si possono osservare le fasi della formazione della crosta e del sudato sieroso. È dunque innegabile che un vero corpo umano è stato avvolto nel lenzuolo Le fibre delle zone macchiate di questo sangue sono cementate insieme dal fluido viscoso che penetrò fino al lato opposto del tessuto. Dopo l'identificazione generica, Baima Bollone giunse a dimostrare che si trattava di sangue umano appartenente al gruppo AB. Altre importanti scoperte rese note dal medico torinese riguardano le macchie ematiche dei piedi in corrispondenza delle quali ha localizzato un globulo rosso ed alcune cellule epidermiche umane. L'indagine medico-legale Dallo studio della sindone alcuni medici deducono che fino a poco prima della morte fluiva sangue dalle ferite e che il corpo è stato avvolto nel lenzuolo non più tardi di due ore e mezzo dopo la morte. Il sangue presente sulla sindone è colato verso il basso lungo le braccia, il corpo e le gambe di un uomo appeso ad una croce. Si è colagulato sulla sua pelle ed è anche fuoriuscito con le caratteristiche di sangue post-mortale dalla ferita del costato. Il breve tempo di permanenza del cadavere nel lenzuolo è testimoniato dall'assenza di segni di protifrazione. Vicino alle labbra mancano tracce di gas ammoniacali che sarebbero certamente presenti nel caso di inizi di protifrazione. Generalmente questa comincia circa 40 ore dopo la morte. Il processo di protifrazione viene accelerato quando ci si trova in presenza di grandi ferite e di focolai contusivi come nel caso dell'uomo della sindone. Per avere un decalco di sangue sulla stoffa come quello osservato sulla sindone il corpo deve essere stato a contatto con il lenzuolo per circa 36-40 ore. In questo tempo un ruolo importante deve essere stato svolto dalla fibrolinosi che provoca il riscioglimento dei coaguli. Resta inspiegabile come il contatto fra il corpo e il lenzuolo si sia interrotto senza alterare i decalchi che si erano formati. Ringraziamo appunto Emanuela Marinali per il sito santiebeati.it